Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come vedete dal titolo oggi siamo in un'altra andesima challenge E questa è la DORP CHALLENGE Come? Il ragazzo qua presente si benda Mi bendo E disegna su un foglio bianco Ma se so bendato come faccio? Ah è proprio questo Su un foglio bianco con una carissima penna Lui è bendato Ok Disegna il cane, quello che gli esce io lo devo indovinare No cioè disegno quello che voglio Il cane è un esempio Ok ok ho capito Questa è la merda che io faccio così e non vedo più niente Oddio Se mi fai indovinare prendi un punto te Capito? Per Sushi Sei pronto alla tua rivoluzione? Sì vai Ah che c'è Dio Mi ha fatto sprucchiare tutto il collo No no Ok ok Se va sul foglio? Sì sì Va bene passiamo avanti Aspetta Che cos'è? Penso che sia una ragazza con le sue pretuberanze prontate Ah di fuori E zin Vabbè per non essere volgare E zin De fuori? Eh Sì E' quello Oh Ce sta eh Mi aspettavo di peggio Oh ha fatto bene la faccia Ha fatto la spalla che rende sulla tetta eh Però è la prospettiva quella Però l'ha fatto benissimo Dai Aspetta ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho Vai Sto aspettando Aspetta 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 Un mostro di Rockmus L'Italia La Sicilia Corsica Che è quello? La Sordegna E' troppo piccola Così che Sardegna e Sicilia Che si incrociano Esatto Oh ci sta eh Come siamo fatti a disegnarsi io Ci sta Ci sta Pare un broccolo lesso No Però ci sta Aspetta Mi metto il cappelletto Non mi riesco a mettere Il cappelletto Il cappelletto Interessante E' una persona Ok Con l'orecchino Suppongo Perché hai fatto la M? Ah sono io Mi stai facendo il ritratto C'è quella barbetta Che non so dove va a finire Non la fa mai finire No no hai fatto Hai fatto Pronto Pronto a vedermi? Io si Guardami Mi hai visto Guarda Guarda In serio Ma che è Ma che è Pari una scimmia Ma questa scimmia sta mangiando No no Sì Ti auguro io mi mangio differential Twitter Che cos'è che cos'è? Un cobu di rupick si è bravo stai mangiando nooo bellissimo vedi i biscottini stai mangiando mamma mia stai sponsorizzando oh oh stiamo pari no? no sto vincendo io adesso 3 o 2 mamma mia ti faccio un par di segno vai vai c'è ma che biscotti? no no non sto prendendo i biscotti si si lo sto sentendo lasciami ma come hai fatto a capirlo? che è? assomiglia veramente a un cane con la lingua di fuori guarda non era lì doveva essere la zappa che stava qua vabbè oh 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 io me vado vado via ti faccio un altro ti faccio un altro ti do un altro indizio le alpi le alpi questa via su sti quale quindi Italia ok qua c'è sta a Sicilia dai qua quello che ho disegnato a Sardegna grazie eh grazie oh c'è sta Italia poi sotto la Sardegna e Turchia che sta in Africa ok ah e questo che è? oh come si chiama no questa qua è il disegno principale eh questo però qua è il disegno l'Africa ha fatto di merda eh vabbè qua qua che c'è sta dell'Africa ma Rocco ok quindi Rocco si frega dai oh con la mano che c'entra? ma no rotta vado marocchina quindi aspetta ce l'ho arrivata per forza da solo fermo 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 ma mano Rocco è la persona che sei sta bruciata persona negra di quale sesso? femminile ok perché sta bruciata? collega collega tutto questo 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 ragazza con i capelli eh mano eh marocco eh lascia aperti che hai con i capelli no ragazza mano che può essere? accanto faccio così bambino quindi questa è? questa è? la madre ok vedi vedi vaffanculo io non faccio più video con lui ciao oh ciao non me lascia dove stai? la mano ti fa tipo oh 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 canna ah mi hai fatto male mi hai fatto male serio ma hai fatto al contrario? no ok pareva la faccia del David al contrario la stazione una stazione dei treni ok ok te dico pure quale quale? è di Roma suppongo ok termini ok 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 siamo arrivati pari siamo arrivati sasso carta forbice tre volte chi vince vince tutto ok la faccia stop marracinese 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 no abbiamo detto la carta marracinese si si marracinese marracinese che vince 2 a 1 stavo no 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 2 a 1 comunque se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un piccolo like qui sotto commentate qui sotto con altri challenge che volete vedere continuate questo video su tutti i social possibili instagram facebook snap c'ha detto instagram che ha detto 2 volte instagram quindi twitter twitter i nostri come al solito ve li lasciamo qui sotto in descrizione e se non l'avete fatto adesso iscrivetevi al canale vediamo un prossimo video ciao